Musica Sabato primo aprile, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia Nicola Passarelli. In apertura parliamo dei lavori del Consiglio regionale di ieri, torna in aula la proposta istitutiva dell'Egam e torna il braccio di ferro in corso ormai da mesi sull'istituzione dell'ente regionale per la gestione delle risorse idriche molisane. L'ennesima seduta carica di tensione, quella del Consiglio regionale, accanto a Molise Acque e alla nuova Egam, spunta la proposta di una ulteriore società che porta a tre i soggetti chiamati a governare l'acqua pubblica. Sullo sfondo una maggioranza disunita e confusionaria che sta prendendo le distanze dal presidente della regione Fratura, il servizio di Pasquale Di Bello. Se ne discute da un anno e mezzo e comunque la si giri, quella dell'Egam è una storia che fa acqua da tutte le parti. Ennesima seduta del Consiglio regionale ed ennesimo braccio di ferro tra i consiglieri. Dopo la scoppola rifilata da una maggioranza trasversale a Paolo Di Laura Frattura, il centrosinistra corre ai ripari e tenta di recuperare i dissidenti che nella seduta precedente hanno bocciato la figura del direttore generale dell'ente, chiamato a gestire le risorse idriche molisane. Il pericolo concreto è che dopo la fase di avviamento, le piroette e le volute attorno agli emendamenti presentati in quantità industriale da tutte le parti, la proposta di legge 136 formulata dalla Giunta regionale venga clamorosamente bocciata e con essa va da fondo quel poco o quel niente che tiene in vita una maggioranza avviata ormai al tramonto. Il risultato della battaglia al momento è la bocciatura di un paio di proposte modificative avanzate con due distinti emendamenti dai consiglieri Iorio e Niro, entrambe tese a definire in maniera inequivocabile la gestione pubblica di tutto il ciclo integrato dell'acqua. Il tema dello scontro che si è riproposto anche nell'ultima seduta del Consiglio regionale è infatti quello della deriva privatistica che potrebbe assumere la gestione dell'acqua pubblica. All'esame dell'Aula è poi arrivata una ulteriore proposta della Giunta, tesa ad affidare ad una ulteriore società, un'azienda speciale diversa da Legam e diversa da Moliseacque, la gestione delle reti idriche, in definitiva una terza società nella quale sono chiamati a confluire Legam stessa, la Moliseacque e i comuni molisani. Come ben si comprende, quella posta all'esame del Consiglio regionale è una delle leggi più confusionarie della storia politica e amministrativa della regione Molise. Al marasma mozzafiato che agita il palazzo si è giunta strada facendo la durissima opposizione di movimenti e comitati in difesa dell'acqua pubblica e dell'esito referendario che ne ha sancito in maniera inequivocabile la qualità di bene intangibile. Se al fronte del distingue delle opposizioni si aggiunge il precedente della bocciatura operata dal TAR lo scorso novembre di un'analoga proposta varata dalla Giunta regionale cassata per incompetenza dai magistrati amministrativi, il quadro a tinte fosche che se ne ricava è a dir poco inquietante. Una ostinazione, quella di fratture soci, che lascia adito a più di una perplessità e dubbio, facendo di quello che per definizione è un bene trasparente e cristallino, una torbida pozza sotto la quale potrebbe nascondersi per i cittadini il rincaro delle tariffe e la perdita di sovranità. Cambiamo argomento, parliamo di raccolta differenziata a Campobasso affrontato nel Consiglio Comunale con una interrogazione del Movimento 5 Stelle che vuole sapere a che punto è il progetto e quando parte. La risposta dell'assessore Ramundo che ha spiegato i passaggi e i costi, ce ne parla Tonino Danese. Di annunci ne sono stati fatti tanti sulla partenza della raccolta differenziata strutturata a Campobasso ma il progetto ancora non vede la concretizzazione piena. L'argomento è approdato in Consiglio Comunale con un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Non è ammissibile che questa amministrazione da quando si è insediata, già dal 2015, ha cominciato ad annunciare partenze effettive della raccolta differenziata che i cittadini non hanno visto. In particolare sul centro storico dove la prima iniziativa dell'amministrazione è stata quella di rimuovere i cassonetti per la raccolta differenziata, quindi ad oggi il centro storico è impossibilitato in alcuna forma di poter differenziare i rifiuti. Dal 2015 siamo slittati al 2016, prima la primavera, poi giugno, luglio, settembre, dicembre e tutti i annunci che sono caduti nel vuoto, ad oggi la raccolta differenziata ancora non parte. Noi rimproveriamo l'assessore e al sindaco il fatto di aver fatto una serie di annunci cascati nel vuoto che hanno creato un'aspettativa da parte della cittadinanza che ovviamente fa perdere credibilità all'intera amministrazione. Rileviamo anche che gran parte delle responsabilità di questo fallimento ricade ancor più che sulla struttura politica, su quella amministrativa della SEA. Alle domande di Simone Cretella e dei 5 Stelle ha risposto l'assessore Stefano Ramundo. Perché non parte? Diciamo che sono attivate tutte le fasi della raccolta differenziata che parte già dalla comunicazione a una serie di azioni propedeutiche. Manca l'ultima fase che è quella della raccolta del rifiuto in modo differenziato. Abbiamo speso tutti i fondi e parliamo di oltre 4 milioni e 300 mila euro per l'acquisizione dei kit, delle attrezzature finalizzate alla partenza della raccolta differenziata. E quindi anche l'approvvigionamento delle forniture ci hanno portato qualche piccolo ritardo. Qualche altro ritardo è stato comunque causa forza maggiore la famosa nevicata che ci ha portato via un mesetto. Stiamo cercando di limare tutte le possibili difficoltà su carta. Vogliamo partire in modo sicuro. In questa settimana abbiamo affidato anche Mezziasia ufficialmente come proprietà. Con la SEA, che è prontissima per partire sulla raccolta differenziata, stiamo ragionando sulla data migliore. I giorni prossimi venturi saranno quelli della partenza. Il 2017, come ho detto anche in Consiglio, è l'anno dell'operatività. Come il 2016 è stato quello della comunicazione e della spesa dei fondi e quello del 2015 è quello della progettazione. Nell'arco dell'anno noi contiamo di chiudere tutti i quartieri. Il primo è quello del centro storico. Nel breve tempo dovremo partire. Mi auguro entro aprile 2017, entro i prossimi giorni. Il gruppo Gesci degli Scout di Sernia invita tutta la cittadinanza a partecipare domenica mattina dalle 10 alle 13 alla giornata dello Scout Day presso la Villa Comunale. Giochi, animazioni e attività all'aperto per far conoscere a tutte le famiglie e ai ragazzi di Sernia le attività che propongono gli Scout. Bene, con la nostra informazione è tutto. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In apertura i lavori del Consiglio regionale e la questione EGAM. Acque agitate nella maggioranza. Frattura in difficoltà. L'articolo è a firma di Pasquale Di Bello. Vediamo le altre notizie. Ospedali pubblici. Sanità molisana tra le peggiori d'Italia. Lo ha detto nei giorni scorsi il ministro della Sanità Lorenzin. Altre notizie. Siamo sempre sulla home del giornale demolise.it. Le tradizioni per valorizzare il territorio incontro al castello di Cerro al Volturno. Si tornano ancora a parlare della vicenda di San Martino in Pensilis. Fondi per ristrutturare casa. Ci sono anche due assessori. Il fratello del sindaco. Oltre al vicepresidente della regione. Facciola tra gli indagati. I serni, ammigranti violenti. Salvini all'attacco. La preoccupazione dei sindaci. Altre notizie nella sezione editoriali idee e opinioni. L'ABC del mercato deve valere anche in politica. Articolo a firma di Adele Fraracci. Poi come potete vedere ancora. Notizie dalla regione, dall'Italia e dall'estero. Aperture diverse sui quotidiani regionali. Iniziamo con primo piano. L'Egam fa acqua da tutte le parti. Ennesimo rinvio. Nulla di fatto anche nella seduta di ieri. Passa l'emendamento di frattura sulla gestione. Ma la maggioranza rischia su quello del Movimento 5 Stelle. Il voto finisce in parità. A Palazzo d'Aimmo il presidio di sindaci, partiti e movimenti. Il testo torna in aula il 13 aprile. Altre notizie di spalla. La Presidente della Camera Boldrini. Oggi all'Università del Molise per l'inaugurazione dell'anno accademico. Ancora dai serni a migranti e ordine pubblico. Il prefetto convoca il tavolo sulla sicurezza. Notizia Centropagina. Indagato per i fondi post-sisma. Parla l'assessore Facciola e dice no mi rimetto. Intanto attacca Campopiano. Dice chiara la matrice politica di questa nuova graticola. Spese pazze assolto dal Tribunale. Condannato dalla Corte dei Conti. Bizzarro dovrà restituire 30 mila euro. Ancora in ambito universitario c'è una polemica. Gli universitari contro la regione dicono le borse di studio le paghiamo di tasca nostra. A Termoli adesso per la cronaca ruba carburante da un tir in sosta. Ladro inseguito e arrestato dalla polizia. Ci spostiamo a Campobasso. Non c'è posto sotto terra. La Salma resta nella camera mortuaria del cimitero per dieci giorni. Uno sguardo anche al mondo dello sport. Il calcio Campobasso. Todaro prova a fare un passo in avanti. Il presidente Perrucci attende però gesti concreti. Si aspettano le mosse dell'avvocato Foggiano. Il calcio di eccellenza. Macchia cerca la Serie D nell'anticipo contro la diretta rivale Vasto Giraldi. Il calcio a 5 e i riflettori puntati sul derby Campobassano. L'isernia si congeda dal pubblico amico. Andiamo sul quotidiano. In apertura c'è la sanità, neurochirurgia, accordo tra azienda sanitaria regionale e Neuromed. Il protocollo d'intesa prevede la gestione congiunta delle emergenze tra i medici del Cardarelli di Campobasso e quelli dell'Istituto di Pozzilli. In alto post-sisma facciolla sereno perché sicuro del mio operato. Il commento dell'assessore il giorno dopo il blitz della Guardia di Finanza. Ci parlano anche dei lavori del Consiglio regionale sul Lega ma ancora un rinvio scrive il quotidiano. Passa un emendamento di frattura. Richiami a centro pagina. Porto Cannone. Il Comune dichiara il dissesto finanziario. E anche il quotidiano ricorda che oggi è l'Università del Molise. È il giorno della Presidente della Camera, Boldrini. Cronaca da Campobasso ha coltellato indagati sotto Torchio. Anche qui il calcio serie D. Il sindaco Battista disponibile ad aiutare i lupi. Mentre per quanto riguarda il calcio di eccellenza, macchia contro il Vasto Girardi può arrivare la promozione. Chiudiamo il quotidiano. Andiamo sul Free Press, la nuova gazzetta molisana che per quanto riguarda i lavori di ieri del Consiglio sull'Egam titola così Giovedì di passione per l'Egam. La discussione sull'istituzione dell'ente idrico in Consiglio regionale rinviata al 13 aprile. Continua il braccio di ferro tra i consiglieri. Sul tavolo il rischio privatizzazione. In basso neurochirurgia, accordo tra azienda sanitaria regionale e Neuromed. L'editoriale del direttore Saluppo è permeato proprio sui lavori del Consiglio. Acqua, tre passaggi e tiro in porta. L'Oscar oggi va al sindaco di Vinchiaturo, Luigi Valente, per quanto riguarda la raccolta differenziata. Mentre il tapiro, per lo stesso argomento, va all'assessore comunale di Campobasso, Stefano Ramundo. Ed ora su futuro Molise il quotidiano telematico. Egam tira e molla in Consiglio regionale, ancora rinviata l'approvazione al 13 aprile. L'acqua molisana deve restare pubblica. Questo l'appello lanciato ieri da consiglieri, ma anche da altre persone presenti a Palazzo D'Aimo. Sanità, nuove esenzioni ticket, frattura anche per il controllo del pacemaker. Nell'editoriale di Pietro Tonti, questione immigrati. Il PD si prende le colpe. Il nuovo centrodestra lucra a livello nazionale sul business immigrati. La mano di Alfano. Andiamo a San Martino in Penzli. S'inchiesta a Peu, facciolla, atto dovuto. Sono tranquillo, dice il vicepresidente della regione. Altre notizie. Con la primavera, le scalinatelle di Venafro tornano ad animarsi. Ancora notizie di attualità. Show cooking. Lo chef Nicola Vizzarri rappresenterà il Molise alla Bitt di Milano. Andiamo sui quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Vediamo questa notizia che troveremo sulle prime pagine anche degli altri quotidiani. Le radono i capelli per il no al velo tolta ai genitori. Il coraggio della quattordicenne, la notizia arriva da Bologna, ha chiesto aiuto ai professori. Grande foto con Papa Francesco. La carezza della bimba che non vede. La visita a sorpresa al centro per ciechi. Dalla Corriere della Sera adesso andiamo su Repubblica. Unione Europea ripresa fragile. Parla Padoan. Dice, noi diversi dalla Germania. Tanto Trump. Siamo in guerra commerciale. Nel mirino degli Stati Uniti. La Cina è Berlino. A centro pagina, Movimento 5 Stelle, scoppia il caso Genova. Indagati, Grillo e Di Battista. Uno sguardo adesso alla prima pagina della stampa. Legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle tenta il PD. Premio a chi vince. Orlando ed Emiliano. No ad alleanze con Berlusconi. Tanto Richetti. Braccio destro di Renzi. Dice, va garantita la governabilità. Salvini, Silvio ha sostenuto tutti. Adesso basta. 11 settembre. Le foto segrete del Pentagono. L'FBI svela le immagini dei rottami dell'aereo schiantato contro il cuore della difesa americana. Chiudiamo anche la stampa. Siamo sul Fatto Quotidiano che torna sulla questione Madia. Il plagio sarebbe impossibile ad Harvard. Social ha scatenati sulla ministra Furbetta. E torna anche sulla questione Minzolini. Bomba Minzo sulle primarie. Il PD vuole rinviare il caso a maggio per evitare un'altra figuraccia. Sulle dimissioni si vota a scrutinio segreto. Renzi teme un salvataggio bis. Adesso libero. Con un'apertura diversa. Un tema diverso. Un alcolista solo al comando. Siamo nelle mani di questo qui. La Polonia accusa. Adesso vedremo chi è. Davanti al Papa. Il presidente Juncker dormiva come uno sbronzo al parco. Siamo all'euro delirio. L'esercito europeo non c'è. Ma già i tedeschi pretendono di guidarlo. Buon riposo presidente. Due foto. Con il presidente della commissione UE Juncker. All'udienza dei leader europei. Da Bergoglio. Da libero adesso al quotidiano romano il messaggero Super Dazi. Trump ha già firmato. Operativi due decreti per contrastare i prodotti dell'Unione Europea. Gli Stati Uniti siamo in guerra commerciale. La mossa alla vigilia del vertice con il presidente cinese Xi. Parla anche il nostro ministro degli esteri e il presidente del Consiglio. Chiedo scusa a Gentiloni. La risposta arriverà dal G7. E adesso a proposito di economia e finanza. Il sole 24 ore. Questa è l'apertura. Dazi e americani da rivolta delle imprese. Il no del B7. Parla Boccia. Dice lavorare ad una soluzione nell'interesse di tutti. Analoga apertura anche per il quotidiano della CEI. Avvenire. Chi di Dazio ferisce. Trump, leggiamo, vara i decreti sul commercio anticinesi. L'Unione Europea risponde. Anche le imprese americane insorgono. Il ministro americano Ross. Siamo già in guerra. Gentiloni difendere il mercato. Il libero mercato. Intanto il G7 dell'industria. Minacciati gli scambi. Da avvenire. Adesso all'altro quotidiano romano. Il tempo. Vediamo. Il mio Lele. Ammazzato per uno scambio di persona. Parla la fidanzata di Emanuele. Le sue ultime parole. Amore scappa. C'è anche un'intervista al Buttafuori. Che dice. Non sono io il killer. L'assassino. Faccia. L'uomo. Dal tempo. Adesso al mattino. Di Napoli. Scontro tra istituzioni. Si parla del capoluogo campano. Tensione dopo il fuorionda sul questore. Il sindaco non vada a Mattarella. Dice. Ero in consiglio. Gli ho telefonato. De Magistris. De Magistris. C'è un complotto contro la città. Parla anche il governatore De Luca. Rivoluzionario. Di Cartapesta. Dal mattino adesso al manifesto che dedica spazio a Fabio Fazio. E titola così con la grande foto l'isola dei faziosi. Le star della tv pubblica non ci stanno. Il tetto di 240 mila euro l'anno fissato per i conduttori è inaccettabile. Fabio Fazio capeggia la rivolta minacciando la RAI di andarsene e attacca l'invadenza della politica. Dopo il no della evocatura la palla passa al governo. Adesso, dopo il manifesto, uno sguardo al secolo d'Italia, la foto di Trump exì, guerra commerciale. Si parla chiaramente della questione Dazi. In basso Genova inguaia i grillini indagati Beppe Grillo e Di Battista. Adesso la verità. Dopo gli spari si indaga sugli affari dell'imprenditore con Renzi e Lotti. Due aziende di Andrea Bacci, già oggetto di intimidazioni, sono in dissesto. I magistrati vogliono capire se è stato troppo generoso, messo tra virgolette, nel restauro della casa del rottamatore e nella valutazione di quella del ministro. Adesso il mondo dello sport. Anche qui si parla di Brexit. Vediamo il titolo di apertura. Conte, Brexit, oh no, tutti i dubbi e i retroscena. Stop alla trattativa di rinnovo con la Chelsea. Chiede più garanzie. L'Inter ora ci pensa. Su Suning ha cinque assi per poterlo convincere. In alto, la Gazzetta ricorda l'appuntamento di domani sera con la super sfida del San Paolo, Napoli-Juve. Sarri ha un Amsic affamato, allegri ha il talismano Chiellini. Bene, come sempre con lo sport e con la Gazzetta. Terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Vi ricordo alle 14 il telegiornale. Arrivederci. Grazie per averci seguito.